Ci troviamo questa sera nella sala gentilmente offerta dall'Associazione Quattro Terzi per presentare la seconda iniziativa editoriale di Carmela Mendola che è una esaltazione del nostro patrimonio immateriale. Si tratta infatti dei sapori e degli odori della nostra tradizione augustana. Un tema particolarmente caro alla Commissione di Storia Patria che ho l'onore di presiedere e che quest'anno celebra i 50 anni della sua istituzione. Abbiamo con piacere offerto il patrocinio della Commissione a questa pubblicazione di Carmela Mendola perché riteniamo questa pubblicazione di grande valore per quelli che sono i valori, i valori della tradizione, i valori del patrimonio immateriale che da tempo andiamo esaltando. È un momento particolare per quelle che sono le tradizioni della nostra città che andrebbero inserite in un contesto più ampio. Carmela Mendola ha esaltato la cucina della nostra tradizione, gli antipasti, i primi piatti, i secondi. A noi fa piacere questo tipo di lavoro perché in effetti il primo che si occupò della tradizione culinaria in augusta fu Sebastiano Salamone che alla fine dell'Ottocento riferiva di quelli che erano gli odori che venivano emanati dalla preparazione di un piatto tipico della tradizione augustana. Era il piatto a iotta fatto con i pesci pescati dai nostri pescatori sardari nelle acque in prossimità di brucoli. Lui accennava quello che era l'odore che emanava, che emanava questo piatto, che emanavano i pesci appena preparati per tutta l'area di brucoli. Ma in maniera particolare parlando della tradizione culinaria di augusta ci vengono in mente quelle pietanze legate alla festività che sono le pietanze che Carmela Mendola ha elencato sistematicamente per stagioni, nei vari momenti delle festività religiose e civili, i piatti legati alla tradizione della festa di San Giuseppe ma anche alle feste laiche, le panificazioni. Questa è il libro di Carmela Mendola, l'esaltazione del patrimonio della nostra tradizione. Il libro di Carmela Mendola, l'esaltazione del patrimonio della nostra tradizione, di Carmela Mendola, l'esaltazione del patrimonio della nostra tradizione iscriviti al nostro canale.